Pesore è pronta per l'inizio della scuola di ogni ordine grado, questa è la notizia più importante. In questi giorni tante famiglie sono in apprensione per l'inizio della scuola, è il tema fondamentale per questo momento. È fondamentale che i ragazzi tornino a scuola perché la scuola è istruzione ma anche socialità, è crescita e quindi abbiamo bisogno di far tornare i ragazzi a scuola in massima sicurezza. Stiamo facendo più di 500 mila euro di lavori di manutenzione per cercare di allargare aule laddove necessario, cercare gli spazi per il distanziamento, quindi ringrazio Pascucci e tutto lo staff che sta lavorando su questo e al tempo stesso inaugureremo una nuova scuola che è la scuola di Via La Marmora, la scuola media a Pantano, è una scuola al top dell'efficientamento energetico, dell'efficienza sismica e quindi siamo molto contenti perché è una realizzazione davvero importante con i fondi del GSE, siamo stati tra le primissime città ad ottenere queste risorse nazionali, quindi ci stiamo attrezzando al meglio, compresi i trasporti, ovviamente bisogna che tutte le famiglie rispettino le norme, lavare le mani, misurare la febbre, far indossare la mascherina fino al banco ai ragazzi, queste sono le indicazioni che vengono dall'Istituto Superiore di Sanità e dal comitato scolastico, quindi insomma grande prudenza perché avremo davanti a noi mesi nei quali dovremo convivere con il virus ma non vogliamo di nuovo richiudere tutto, quindi più saremo prudenti, più rispetteremo le regole, più ci vivremo alla scuola e meno rischi avremo di eventuali chiusure, non possiamo permetterci le altre chiusure, dobbiamo assolutamente essere prudenti perché fin quando non ci sarà il vaccino dovremo convivere con questo nemico invisibile che ancora purtroppo è tra noi e quindi dobbiamo assolutamente tenere la guardia molto alta, al tempo stesso però riniziare la scuola nella massima sicurezza possibile. Ma come voi sapete il comune si interessa prevalentemente della scuola di primo grado, quindi dall'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Il mio assessorato, l'assessorato alla crescita insieme all'assessorato all'operatività dell'assessore Belloni ha fatto un lavoro certosino devo dire, nel senso che abbiamo incominciato ad incontrare i dirigenti scolastici già dai primi giorni di luglio e sentire quali erano le loro necessità. Poi c'è stato ovviamente tutta una serie di incontri nei diversi plessi, proprio a seguito insomma delle richieste che loro avevano avanzato e poi si è proceduto con un esamine di tutte le spese che potevamo sostenere con i 520 mila euro che ci ha dato il Ministero dell'Istruzione. I lavori sono ovviamente a buonissimo punto, nel senso che quello che le scuole avevano chiesto prevalentemente è stato eseguito, devono terminare quasi tutti entro il 14 per quel che riguarda la sistemazione delle aule. Avrai tempi un po' più lunghi, invece tutta la sistemazione degli spazi dedicati alla mensa, perché la mensa inizierà più tardi. Abbiamo avuto a proposito della mensa quasi 400 domande in meno, quindi mentre l'anno scorso avevamo più di 4.000 pasti, quest'anno ne abbiamo 3.700 e qualcosa. Però questo credo che sia abbastanza logico, abbastanza normale, nel senso che le famiglie prima vogliono vedere qual è l'inizio un po' di questa scuola, come ci siamo organizzati, eccetera. Sul trasporto la stessa cosa, nel senso che abbiamo i pulmini in numero adatto e giusto per poter trasportare tutti i 500 e oltre bambini, per cui credo che siamo veramente ad un buonissimo punto.